L'Università di Roma Foro Italico L'Università di Roma Foro Italico è la quarta università statale di Roma ed una delle poche in Europa ad essere dedicata interamente allo studio dello sport e delle scienze ad esso legate. Il nostro Ateneo è dotato di strutture sportive e laboratori all'avanguardia e può contare su personale, docente e tecnico di altissimo livello. Le strutture dell'Università sono ospitate nel complesso monumentale del Foro Italico che è situato nella parte settentrionale della città di Roma accanto alla riva del Tevere in un contesto che è ricco di storia e di suggestioni culturali. Grazie a tutti! Faccio Rerasmus da settembre. Per me praticare attività sportiva in questi spazi è una grandissima emozione. Quando vediamo una foto c'è l'Olimpico solo dietro, c'è questo bel disco che è bello, c'è il Ponte Mirvio vicino. Mi piace lo stadio dei Marmi, mi piace troppo. Ho scelto l'Università del Foro Italico perché... Offre un programma di studio molto ampio, molto professionale. Questa università è molto attrezzata, i professori sono molto cordiali. Capace di metterti a tuo agio in un ambiente molto familiare. Pratico molta attività. In un impianto ottimo al centro di Roma. Facciamo rugby, pallavolo, calcio. Si entra come in un rapporto di una famiglia. Con dei professori competenti e professionali. Se si riesce a stare al passo e si ha soprattutto la voglia e la curiosità, è quello che vi consiglio. La città è meravigliosa, sembra un museo dappertutto. Questa università è passione e anche amicizia. Ho fatto molte amicizie. Gli italiani hanno un spirito sportivo, sono allegri. Una bella università. Capace di portarmi sul mondo del lavoro. Ricerca scientifica, crescita professionale, innovazione sono i valori. del nostro Ateneo che auspichiamo di poter condividere con tutti gli interessati alle scienze motorie sportive.